Senti, in attento. Adesso non sento arrivarvi lì, se non si sposta un po', è infiolata, non c'è da guardarla. Il termicone che si è staccato lì dietro dal decone. Il termicone si scantano a tutti sopra. Alla prossima. 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 Grazie a tutti. 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 Santuario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.